Ciao a tutti ragazzi, qui a temper, come vedete già notato sono su ASOSpacecon, detto Bertano Cadici a tutti, come vedete siamo io contro i diluvi perché gli altri nobbi non ci sono No è vero, veramente siamo in due, io sto navigando spregiustamente nella foresta Io sto andando nel tuo spawn Io sto andando nel tuo Bene, devi passare tramite un ponte comunque Oh io sparo, dimmi se vedi il proiettile passare nella mappa Hai sparato? Sì sì ASOSpace ragazzi, comunque è un gioco di grafica neanche buona, sembra pessima Però è un gioco che è veramente fatto bene secondo me, perché la grafica non conta tutto Oh no Giuse, bastardo, negro Guardalo, t'ho visto, pezzo di marocco T'ho visto Raga l'avete visto anche voi No io t'ho perso E gli fa headshot beach con un oscope con il 4000 Drop it Drop it Oh Dio mio Headshot Sì vabbè ragazzi io ci gioco da tipo 20 minuti Vabbè anch'io non è che headshot Orca troia c'è due di vita Io mi sono allontanato, perché? Stamazzo il cane, il gatto è topo e l'elefante, se solo ti vedo Sniperaggio di alta classe Dove sei? Vabbè io ho paura Adesso sentate nell'acqua Sniperaggio di alta classe Avete visto ragazzi Eccolo lì No che spavento Comunque ragazzi Questo gioco è abbastanza tattico comunque Perché bisogna prendere tipo i nemici allo spawn E chiuderli lì E' un gioco veramente fatto con i fiocchi secondo me Anche a parte la grafica Headshot Bene grazie Che peccato pensavo stassi bene Fino a poco fa Headshot Con la skin del cecchino è più semplice fare headshot Perché? C'è il nirino già fa headshot Via 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 Cambia cambia posto cazzo Vaffanculo No Grande bravo Giuseppe Applauso Sì ragazzi Io lo amo sto gioco E' veramente troppo divertente di giocare Adesso ti aggiro Sì sì Aggirami se ce la fai Ah eh ok ragazzi è entrato un altro giocatore nella mia squadra E allora Ancora Ehm Volevo chiedervi Ehm Orca ma dai Come Ehm Si alza la sensibilità È stato visto Headshot Headshot Vabbè perché io colpisco sempre no E poi faccio sempre edge Vabbè ragazzi se vuoi come aumentare la sensibilità È in Qua in Qua in Ace of space Un colpo mi stendica Headshot Occhio che sta arrivando il tipo col fucile a pompa Oh me Quindi ragazzi se vi piace il suspense Mettete un mi piace dai E iscrivetevi Ok oh ti è arrivato un amico anche da te Due contro due Johnny Un amico in me Un amico in te E uno più uno fa due Ma no Andiamo all'attacco Johnny Rip No Non sponsorizziamo Comunque Grande Johnny Stima totale Fratello Ora sto nerd Che si fa le case Al posto di Oddio Alle fattorie Affanculo Io Porca ma dai C'ha la mitra C'ha la mitra Eh si ragazzo Sniperaggio Ragazzo si Ragazzi Sniperaggio Ad alti livelli Doppio edge Ottavizienda Ma adesso devo portarla Stava in getta Eh devi rimetterla da noi Ma cosa fa sto nerd Che si costruisce le case T'ho catturato la Blue Inter Ti dispiace No no Tanto adesso ti ammazzo se ti becco Vaffanculo Vabbè il bello è troppo bello quando fai edge shot Cazzo Oh perché scuse insert co Oh ragazzi hai un amico nerd che si costruisce le case Anche io però eh abbiamo due nerd Ma dai ma che un po' Quale l'unica Eh ognuno Oh eccolo lì l'altro No scopo headshot No headshot Bitch Sì ragazzi headshot Da parte Di Z best in HD Dai faccio ancora Due uccisioni Poi Terminiamo questa parte qua Ah la granata Mi sento Ok è morto il mio amico E I suoni Headshot Headshot Dai giuse non andare solo a prendere l'intel Bastardo Headshot Ma io ti vedo da cazzo No no sei Ah due di vita Un colpo e vado We would never Donate E Goodbye Ragazzi dai Questa prima parte di Ace of Space Finisce qua Ce ne saranno altre Da Tedbe è tutto E Ciao a tutti Grazie